Ma chi poteva immaginare? Fulgorato. Ti ho vista, eri lì dentro quel negozio. Oh, la tua pelle. Se c'è una cosa che mi fa impazzire è proprio la tua pelle. Però a me non mi va giù, eh. Il modo in cui ti guardano gli altri, il modo in cui ti guardano i miei amici. Anche le mie amiche addirittura. Ma io cinguetto, cinguetto all'infinito. Non lo smetto di parlare. E tutto questo parlare mi ha fatto venire una gran sete. Posso offrirti qualcosa da bere? Ti va? Te lo verso. Grazie. 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 Grazie.